Giovanni Manna ed Antonio Conte lavorano per costruire il Napoli del futuro La dirigenza azzurra avvierà una rivoluzione, con la squadra che sarà rinnovata in vista della prossima stagione Ad andare via, probabilmente, anche Victor Ousimen, il quale è finito nel mirino di diversi top club europei Per sostituire l'attaccante, il nuovo mister avrebbe messo nel mirino diversi calciatori, tra questi anche Jimenas L'edizione odierna di Tutto Sport, in particolare, rivela che il club partenopeo ha già presentato una proposta ufficiale per acquistare l'attaccante del Feyenoord, in avanti, oltre a Romelu Lukaku, tra gli obiettivi c'è anche Santiago Jimenas, l'attaccante argentino, ma naturalizzato messicano, che non vide l'ora di indossare la maglia del suo mito Maradona Offerta ufficiale da 35 milioni di euro per acquistare il nuovo attaccante La dirigenza azzurra è al lavoro e ha presentato una prima offerta di 35 milioni di euro per il giocatore